Come fanno i prestigiatori francesi, l'esperimento... Faccia vedere come si comporta, sollevi questo semplice tavolino e mostri la sua abilità. Con tutta la grazia che posseggo, maestro. Sì, sì, ma lasci, non tocchi. Faccia vedere le sue esperimenti e poi vada fuori dalle balle. Ma è 16! No, non è quello. Senta, vuole che lo alzi alla francese o alla new yorkese? Basta che lo alzi, su. Diamo spazio anche ai ripetenti. Ecco, qui non ci siamo capiti. Io l'ho già detto l'altro anno, ho parlato con sua madre a settembre, lei era ripetente, giusto? L'altro anno era ripetente nella Donna tagliata in due che la poverina vive metà Roma, metà Parigi. Manipolazione non ci siamo e senza parlare della penetrazione che è proprio legato, giusto? 21! No! Sai chi mi ha parlato molto bene di lei? Chi? Nessuno. Al banco, grazie.